Ciao a tutti e bentornati su Fortnite, sono qui con una meravissima skin che sinceramente non so come ha tenuto, mi è stata donata dal gioco improvvisamente oggi quando ho collegato, ho acceso la playstation e mi sono collegato a Fortnite, no mi sto lamentando eh, va benissimo. Backpant e rigna. La vista si è esfruttita. La vista si è esfruttita. Non c'è strano che non c'è. Scudo. Ma direi che potrei anche fregarmi. Un minuto. Non c'è neanche il mirino. E' andato. Non so quanto fosse reale. Magari è andato. Un truopo. Ancariere un bocoticialo. Comunque è andata così. Non buon per me. Che che si è! Un bello lungo l'artiglio eh! Devo vedere se c'è qualcosa qua sopra per me. C'è il mirino? No. C'è il cassa? No. Adesso vengo lì, aspettatemi. Fai vedere, dimmi che c'è il mirino, sei un frettente però. Vorrei ricordarti che non hai niente per volare, è un bel aspetto, però... Andiamo. Avengers uniti. Ah, era sempre qua eh. Che pesa. Che pesa. Attenzione che può essere qua sotto secondo me. No, non è questo. Ma fregateci, che vero. Che ne dici se mette aspetti, usi questi? Così anche da lontano, puoi dare qualche hit. Sta arrivando. Vediamo una cosa. Dicchiarichi anche se corro senza... Eh no, devi tenerli. Ok. Ok, vecchia. Che è che mi ha colpito così duramente? Lui, forse. E adesso sparatevi là, ti sono andato via, e adesso sparatevi là, se non fete niente, sali su, che non vuole salire. E adesso ho una sparata, oh, 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 quello che mi serviva. Sì, ma con cosa sparo, se non ce n'è neanche più qui? Sì, ma con cosa sparo? Sì, ma con cosa sparo, se non ce n'è, non ce n'è, non ce n'è. Oh, cacchia, ma che... Cacchia, ma con cosa sparo, non ce n'è, non ce n'è, non ce n'è. Quindi quello... C'è una monarchia. Ma che cazzo fa, no? C'è una monarchia che fa brutto questo. Cacchio. Una brutta situazione. Non è che mi devi dare l'energia? L'energia? Dove... C'è una monarchia? C'è una monarchia. Che mare? Ecco qua. Death of nothing. Magari quello c'è anche il mirino. Potrebbe essere più bravo di me a sparare. Cacchio. Ma stai scherzando? Ce ne andiamo. Ah, c'è i giorni che mi restano. Cheat. Non scherzo un cacchio quel tipo lì. Possibile che non c'è un cacchio di cose per recuperare energia. Ma ne vado. Via forse. E' meglio che niente, grazie. 1 2 Ok. Ah, veramente capito che mi ha fatto un po' lì. Ma se cambi così bene. Se riesco a riprendermi, tono di raya la faccio pagare. minutes. Ok. Gucchi. Quindi dicta che. Ok. Danca. Qui cacchi. Di fermi. Di blocchi. Uno, ma basta! Chiavica! Con tutto il casino che hai fatto se non arriva qualcuno a seccarti è un miracolo. Non è vero, non è vero. Tirati fuori lì, si va bene di sparare, allora, tutto molto interessante, ma mi serve qualcosa, dai, che facciamo, torniamo verso il nostro amico, c'è Black Pantheria, va bene, abbiamo fatto un po' di fornimento di autostima, killando i botticelli, andiamo avanti piano, anche perché se ci fosse qualcuno, lo sentirei, gli andiamo, qualcuno è già stato qui, e lo usiamo distanzissimo, termico, silenzioso, ok, questo è setup finale, non mi convince, accetto questo, un piccino, ma ok, questi sono i war machines, al posto di, quanti? è una bella domanda, voi cosa fareste? non potete rispondermi, perché sto ritornando il video, va bene, dai, proviamo a tenere questo setup, anche se ecco il volo, anche se ecco il volo, non potete rispondermi, non potete rispondermi, anche se ecco il mondo, e attravevo, Ma che termico che c'è! E qui ne rompe i coglioni mentre sto sparando quello lì. Bessimino eh questa mira! Fatti vedere! Sto sparando quello lontano, e tu? Mi rompe le scalpe! Ok! Ma sono anche in una buona posizione! Non copertissimissimo! Diciamo che era la macchina della scorta! No! Merda! No! 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 ... ... ... ... ... Grazie a tutti. Allora diciamo che non è esattamente la mia posizione ideale questa, meno che vogliamo farci sgammare. Che cazzo? Che cazzo? Oh! Rinca perché qua sta mettendo a mano. Allora... 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 Uh, ho preso! Grande! Grazie alla tecnica K che mi ha suggerito di usare quel robo! Wow, prima partita di serata, prima vittoria! Bella lì ragazzi, 8 kg, è un aumento di livello, mi racconto mi iscrivetevi al canale, lasciatela lì, e se vi fa codice creatore oggi, ciao!